Benvenuti esploratori e viaggiatori omniplanetari. Siamo su Petropia, un gioiello cristallino, la casa di diamante e dei Petrosapien. È duro immaginare che qualcosa che sembra fragile come un cristallo sia invece piuttosto dell'acciaio. I Petrosapien hanno costruito in superficie un regno di proporzioni enormi e di una bellezza che toglie il fiato, mentre i loro cugini ancestrali, i Sub-Sapien, vivono nelle profondità del pianeta. Bellicosi e combattivi, i Sub-Sapien, per molto tempo, non hanno avuto idea del mondo sopra di loro. Ma adesso si stanno preparando ad emergere in superficie per reclamarlo. Queste due fazioni, seppur molto simili, sono in guerra tra loro, senza sapere che sono pedine facenti parte di un disegno più grande. Una terza fazione dimora ancora più in profondità, gli Anthrosapien, che aspettano pazientemente il momento giusto per colpire e prendere ciò che ora appartiene ai loro cugini. Uh, spaventoso, vero? Ma il destino di Petropia ve lo racconterò un'altra volta. Per adesso, partiamo!